Benvenuti tutti, ciao a tutti, si sente già sotto delle risate. Benvenuti a Radio Norton, benvenuti da lì c'è nella città che vi parla il Filo. Ciao Filo, io sono Jacopo e oggi facciamo sconvolte rock. Seconda puntata di sconvolte rock, un saluto da Andre in regia, a Umba in redazione, tanto che desideravo dire redazione. E ciao anche agli ospiti direi, che sono mezzi ospiti. Ciao, bentornati, bentornati. E siamo anche gli ospiti più fuori luogo del programma. Oggi sarà una puntata speciale perché visto che qua in questo tavolo regna la demenza, abbiamo dedicato la scaletta a tutto il rock un po' demenziale, il rock un po' ironico, autoironico e chi ne ha più ne metta. Partiamo subito con il primo pezzo, She, Gaud e Katie e poi dopo ne parliamo dai. Eccoci, abbiamo iniziato con i Blues Brothers, che è il famosissimo, il film, io proprio quel film lì fa ghignare di bestia. Sì, un film dalle grandi sfumature comiche assieme a dei testi, dei sottotesti di tante cose, però essenzialmente l'ironia... L'ironia è partecipazione di tutti i più grandi artisti di quell'epoca, da James Brown, la scena di Arita Franklin che fa la moglie incazzata, ristoratrice, perché il suo marito prende la chitarra e va a farci l'ultimo tour. Ma questo pezzo dove lo cantano nel film? Non c'è forse? Ma chiediamo ai nostri esperti. Gli sciacquoni l'hanno visto questo film? Chiediamo a loro, l'hanno visto o no? Il titolo era... Il titolo è la prima cosa da scoprire. No, mai visto. Secondo voi, noi abbiamo mai visto Blues Brothers? No, Blues Brothers sì, l'ho visto. Vi facciamo presente che siete davanti agli sterchi, perché all'interno dello stacco... E chi è che fa lo sciacquone? Nello sciacquone c'è lo sterco, quindi... Esatto, noi siamo... Noi siamo gli sterchi, in fin dei conti. Per spiegare, lo sciacquone era un vostro programma, spiegavamo... Programma ironico che... Demenziale, sì. Demenziale, sì. A tratti demenziali, a tratti ironico. Soprattutto demenziale, poco ironico. E veniva fatto il lunedì, un lunedì sì, uno no, su Radio Nero Carta Oro. Yes. E ci ritroviamo qui dopo quanti? Due, tre anni? Quattro anni? Due anni ormai che non... Gli sterchi erano a riposo. Sì, infatti siamo un po' duri ancora. No, trago, siete dei soliti cogliorbi. No, un po' di macchigola, eh. Vi siete accumulati nel tempo, nel cesso. La gola secca. Bene, quindi niente, io sono contentissimo comunque da un sacco che non parlavo dentro un microfono. Infatti ti abbiamo messo senza cuffie, assoluto. Come un giorno, cos'è, un giorno in pretura... Faccio un mix particolare. È un piacere ritornare. Tanto ci guardano anche per esempio in diretta video, quindi se vuoi rispare... Ci sono le indicazioni generali, scusami, non ho ancora dato le indicazioni generali, che sono queste puntate si vedono benissimo in Facebook, ma purtroppo non si ascoltano bene le canzoni che mettiamo. Di conseguenza bisogna venire dal vivo ad Alice da vederci. Certo. Questa è la regola numero uno. O pure, se proprio volete, c'è la playlist su Spotify dei pezzi che andiamo a mettere durante tutta la puntata. Facciamo cagare come al solito. Infatti io, per chi non fosse ancora qui, sconsiglio di venire perché c'è talmente pieno. Tanta gente che ormai... Vi consigliamo di non esagerare. Un'alternativa pagate. Abbiamo i buttafuori. Per tenere indietro la gente da tutta parte. L'obiettivo era proprio questo, ridere in questi tempi difficili. Perché difficili, Filo? Ma sì, ne succedono sempre le cotte di crude. Tipo? Ma tipo... Prima le cotte di cotte. Le cotte sono tante, eh. Quest'estate di cotte ce ne sono, eh. No, comunque venite qua da Alice perché si sta anche bene al fresco. Non adesso però. Ci siamo troppi, ve lo ricordiamo. Allora, io e Filippo abbiamo preparato appunto una scaletta di pezzi con vari gradi di ironia, direi. Voi avete un'ironia di che genere? Cioè vi definite più Monty Python o più... Queste parolone. Allora smettila con le citazioni che poi... Perché non le conoscete siete giovani. No, allora scusa, la domanda seria è vi piace più un pezzo dall'ironia cerebrale tipo gli Elio e le storie tese o mi piace scorreggiare dagli schiantos? Dai, così è un po' più facile. Più Elio, io più Team Elio. Ah, vi dividete già. Abbiamo qui lo Zappo Bertuccia Rampinelli che è un super fan, quindi... Quindi partiamo dagli Elio, dici? Ah, sì. Filippo, che pezzo abbiamo scelto degli Elio? Sì, che delia. Sì, che delia. Erezioni mancate, è bello lo stesso, tra le varie perle. Possiamo ascoltarci volentieri. Psichedelia, dirglielo essere tese così poi i nostri ospiti ci raccontano episodi delle loro psichedelia. Interessante. Beh, ragazzi, allora, parlando appunto di psichedelia e di stupidità, di cose stupide, fingerò di ricordarmi una citazione che in realtà ho appena letto su internet. Mick Jagger, durante un'intervista, dichiarò che, dal suo punto di vista, il segreto per l'eterna giovinezza è appunto l'essere stupidi. Quindi direi che... Non era una battuta, non era una battuta che cazzo metti quel suono... Ha una citazione di Mick Jagger. Era più il suono da dire... Cioè, proprio, è vero, la leggerezza. È vero, è vero. Bisogna prendere le cose alla leggera. Anche se, in realtà... Mick Jagger di cose le prendeva, comunque. Esatto. Non tutti, anche alla leggera, però... Ci andava pesante. Nel suo caso era più la psichedelia, secondo me, che era anche la stupidità, renderlo giovine. La psichedelia va accompagnata un po' dalla stupidità, non ci vuole troppa serie di età. O no? Comunque io conoscevo il dentista di Mick Jagger. Sì. Ottimo. È stato mio vicino in Abruzzo al mare di ombrelloni. E sai cosa diceva sempre? Questo lo stavo già per dire io, eh. Vai, Ram. L'ultimo visita dal dentista. Il dentista ha detto a Mick Jagger che ha delle gengive bellissime. Che è il buon vino. Con gli anni... Adatto. È certo, è certo. Una pulizia è un 280 euro. Abbastanza. È una bella gengiva. Onesto. È una bella gengiva consumata, aggiungerei. Quindi continuiamo a prendere le cose sempre di più alla leggera. Con gli Schiantos che anche loro con l'avanguardia si inseriscono di brutto in questa nostra playlist perché chi non loro ha fatto il rock più demenziale. Loro proprio il rock più quello stupido apposta. E per te, Yap, è meglio diciamo ironia all'elio o alla Schiantos? No, io preferisco gli Schiantos, sono la stupidera proprio quella. Infatti volevo questa risposta da te. Sì, ma perché te hai proprio la fotta da Schiantos? Anche sì, abbastanza. Ma Schianto! Non sei troppo pettinato, quindi... Questo pezzo parla di gelati o di droga, secondo le interpretazioni. Drogati. No, è anche loro stupidera apposta, però con il doppio senso. Te la piantavano lì, insomma. Sì, dai. Frick Antoni, gran bel personaggio, molto all'avanguardia. Quindi siamo già gelati? Perché i gelati sono buoni, ma... Lo diceva chi? Servono i milioni. Costano i migliori, sì, sì, sì. Oh, bella Yap. Allora, a proposito di gelati, io più che di gelati sono di ghiacciolo. Specialmente in questo periodo io sono tipo uno che viaggia sui sette, otto ghiaccioli a sera. Quindi i colori vanno bene tutti? Eh, la domanda che volevo farvi è proprio questa. Perché dietro il colore del gelato si nascondono molte interpretazioni psicologiche. Lo Yap lo sa bene, perché tra l'altro è anche esperto di... Di psicologia. Di ghiaccioli, appunto. Di traumatologia, come si chiama quel campo... E quindi volevo chiedervi che gelato... Cioè, che gelato, che colore di ghiacciolo preferite, perché? E poi lo Yap ci darà una spiegazione psicologica per ogni colore. Ok, ma gusti classici o magari... Anche la marca, perché io potrei dire il mio ghiacciolo preferito è quello giallo della marca dell'Indiano. No, 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 non si può, non si può parlare. Il giallo al limone, quello giallo al limone, quello lì rimane il top. Bisogna definire il campo. Vedi, ogni paese comunque ha anche la sua marca di ghiaccioli. Da noi c'è tipo Edo Gelati, che è quello che passa col camioncino, che lo saluto se volete un ghiacciolo. No, non mi ha pagato per fare i pubblici. Comunque, io sono team gelato o bianco, quindi limone, oppure menta verde, proprio... Quoto, quoto, il ghiacciolo verde. E dietro perciò, concludiamo, se c'era, tu dicevi il tuo gelato, e dietro c'è una spiegazione, qualcosa di malato. No, allora, se ti piace il ghiacciolo bianco o verde, sei una persona normalissima. Io ho votato Amarindo, per esempio, ho detto anche Coca-Cola. Già, già lì Coca-Cola. Amarena, rosso. Il peggiore è quello azzurro. Cioè, se tu mangi solo il ghiacciolo azzurro, vuol dire che sei figlio di Satana. Oppure... O che ti piace la Sambuca. Suggeriscono qualcos'altro dal pubblico. Perché voi, io... Quindi, il Mike non accetta... Gente che mangia ghiaccioli azzurri... Non parlo con chi mangia ghiaccioli azzurri. Come me, per esempio. Basta, adesso non possiamo più fare la radio perché io mangio ghiaccioli azzurri. Infatti io stavo parlando con Mazzo adesso. È saltato fuori, finalmente. E gatta cicova, eh. Una relazione rovinata per il colore di un ghiacciolo, Mike. No, ma poi d'inverno è amici come prima. Solo d'estate che gli... Sì, sì, sì. E quindi è per quello che non ci si trovava da quattro anni. Eh sì, perché... Ha scoperto che mi piaceva il ghiacciolo azzurro per l'appunto. L'ho voluto ritirare fuori qua. Eccolo, il nostro strumento. Questo è il nostro strumento psichedelico. Vai, vai. Che sognavi di suonare ancora quel pifero magico. Ma io comunque... Ogni due ore al giorno si allena con il... No, ma comunque l'ultima puntata che avevamo fatto in saletta, questo strumento era ancora integro. Come mai qua c'è la punta disfatta? Perché si allena due volte al giorno. Due ore al giorno. Due ore al giorno. Divise in un'ora e in un'ora. Quindi sono due volte al giorno. Un'altra. Faremo un'aria. Che maestria ragazzi, che maestria. Tra l'altro strumento che ha usato anche Will Dalyankovic, secondo me, da qualche parte. Lui era un fila... Suonava la fila armonica. Ah sì, sì. Dijan Stankovic, sì. Che è il che sta su Giantone, è sempre lui. In questa canzone invece affronto un altro problema che potrebbe causare tanti malumori e sofferenze. A noi proprio. A noi, sì. Parla di noi questa canzone. Parla di dolori alla schiena e magari con questa canzone lei si prendono un po' più alla leggera anche questa. Living with a hernia. Where the old Jankovic. Adesso mazzala ripete, lanciala tu. Living with an hernia. Bravo, lui è? E' Jankovic. Perfetto. Questa versione di Living in America di James Brown rifatta così proprio classica parodia. Io appena la prima volta che l'ho sentito ho detto cavolo, questa la devo portare sicuramente al programma. Ero esaltatissimo. Non l'avevo nemmeno rivelata prima. Nelle grandi tradizioni della stupidea, delle cagate dette in radio, abbiamo sempre avuto anche Lardi, che voi forse conoscete il personaggio di Soresina. Ai tempi Nero Cartoro era anche produzione musicale. Questa canzone era la famosissima, molto più famosa di Julia Jankovic, Vita da Diabetica. Un pezzo Nero Cartoro famosissimo, Vita da Diabetica, Lagana Vita da Diabetica e bla 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 tutta la storia dietro. Si poteva mettere direttamente quella. E' vero, questa versione dell'Ardi non la conoscevo. Perché prima degli sconvolti, degli sciacquoni, scusate, ci sono state tradizioni di sparare cagate in radio per anni e anni e anni, che hanno pavimentato la loro ascesa. In ogni caso si potrebbe fare un remix di ogni patologia per questa canzone. In questa canzone, un pezzo, nomina proprio tutte le varie tipologie di ernia che ti possono capitare. E tu le hai studiate e adesso ce le dirai tutte. No, non me le ricordo, però qualche numero, già solo il nome a me sembrava molto fastidioso. Già, con le ernie anche in tutte le zone che iniziano a abbassarti, poi penso che sia molto più fastidioso. Perché dovete sapere? L'ernia al piede è terribile. Magari. Eh, raga, raga, ma lo sapete? Sapete di che ernia? Mi fa mal la testa. Ragazzi, ma sapete di che ernia soffre un DJ? Mike, adesso è entrato in modalità. Dell'ernia al disco, dai. Ti stavo già pregando di non dirla, tenerla per te. Mi stavi aspettando. Tra l'altro, pensando, c'è veramente una cosa brutta. Perché l'ernia è una cosa brutta. L'ernia o il diabete? No, l'ernia, ma anche il diabete. Però l'ernia, perché dovete sapere che l'ernia è la fuoriuscita di materiale da... Smettila di leggere cose in internet, perché non ti vede la telecamera. Non leggo perché io studio, non leggo perché io sei un maledetto. Spegnete il microfono di Mazzillo. Sei un maledetto. Se vuoi, ti spiego anche, dimmi un tipo di ernia. Togliete il gobo, togliete il gobo. Prendere la canzone. No, veramente, fate andare via quel gobo lì che... Sì, perché osserva... È da fastidio, vero? Frank Zappa, invece, non teneva un'ernia. No, Iappi. No, Frank Zappa, autore importante, fa questo pezzo bellissimo, con un testo meraviglioso. Dico solo, a loro non la sanno, ancora non ho visto il titolo della canzone, dico solo che gran parte del testo è...